Viviamo nella terra di nessuno. Il disferato appello dei residenti del palazzo al Cevico 61 di Via Lazio a Montesilvano, al comune di Pescara, proprietario dell'immobile, raccolto dal consigliere regionale Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle affinché si intervenga contro incuria, degrado e abusivismo. Domenico Pettinari ha incontrato i residenti delle palazzine vicine con i consiglieri comunali pentastellati di Montesilvano, di Carlo, Straccini e Ballarini. Io lo chiamo l'inferno di Via Lazio perché siamo veramente scesi nel girone dell'inferno. Questo è un palazzo che ha una faticenza indescrivibile, ma non solo. Un palazzo dove purtroppo si delinque, purtroppo la maggior parte, il 50% dei residenti sono occupanti abusivi. Ci sono diversi delinquenti, anche criminali, blu e pregiudicati, che qui esercitano attività illecite, che vanno allo spazio di droga, ricettazione, usura, racket. E quindi questo mette a repentaglio, a rischio, la sicurezza dei cittadini onesti che hanno paura, non scendono sotto. Infatti i cittadini che sono con noi sono dei palazzi vicini, ma non di questo palazzo. Li abbiamo visti anche uscire e andare via, non avvicinarsi perché hanno paura, hanno paura di risorsioni. Di estate, qui ci mettono musica ad alto volume, disturbano la quiete pubblica, la quiete dei cittadini. Ci denunciano un'autoclave che non viene manutenuto a dovere, qui abbiamo le fogne che vengono fuori. Ci sono delle abitazioni completamente chiuse, tante dove ci sono queste persone anche disabili. La proprietà è del Comune di Pescara, quindi qui deve intervenire il Comune di Pescara, il Sindaco del Comune di Pescara, congiuntamente anche al Comune di Montesilvano perché è l'anomalia che insiste sul territorio di Montesilvano. Una grande opera da parte delle forze dell'ordine, chiediamo di bonifica per ripristinare legalità e sicurezza perché non è possibile creare questi rioni, questi ghetti e far morire i cittadini onesti. La cosa più grave, e questo che già abbiamo notato, è una vergogna avere a due passi da mare questo eco-mostro e non c'è controllo, non esiste nessun controllo e ovviamente gli abusivi aumentano sempre di più. Ci sono circa 11-12 famiglie abusive e continuano ad entrare, a sfondare le porte, senza che nessuno impediscono queste cose. E' vergognoso. Da quanto va avanti tutta questa storia? Da quanti anni? Sono anni, sono circa 10 anni che è così.